Il fatto di Marcotti sulle fonti tv, il nostro format dedicato alle notizie di attualità, economia, politica, chi più ne ha più ne metta, in questo momento sicuramente sono i due aspetti, i due ambiti che stiamo analizzando sempre di più e lo facciamo con Giancarlo Marcotti, finanza in chiaro, Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, una settimana calda, si spera che questo caldo continui a farsi sentire per un bel po', visto che il problema principale è l'energia e insomma se dovesse invece arrivare il freddo cominceremo davvero a rabbrividire anche a casa nostra, ma arriviamo per gradi, scusate questa non era voluta, ma insomma di gradi parleremo alla questione. Andiamo a vedere quali saranno gli argomenti di questa puntata del fatto di Marcotti, intanto voi vedi scenari economici e politici, quelli servono da introduzione, ma parleremo di cosa succede se la Russia taglia il gas in modo effettivo, già le minacce arrivano, abbiamo visto la vicenda dei Nord Stream, dovevano essere tre giorni di manutenzione e poi di fatto è successo altro, ne parleremo naturalmente con Giancarlo e poi ancora questa guerra del gas. Allora, guerra Russia-Ucraina, guerra militare, è diventata una guerra economica a tutti gli effetti, non lo scopriamo certo oggi, oggi è diventata ancora di più una guerra del gas, scenari per l'Italia e l'Europa e poi si sta parlando molto del rischio di imprese in Italia, questo è un tema veramente importantissimo, che fine faranno le nostre imprese? perché si parla di deindustrializzazione, l'allarme è arrivata proprio da Confindustria del Nord, proprio si rischia chiusura totale per alcune imprese a causa di questi 40 miliardi di costi extra proprio per le bollette dell'energia. Allora, sarebbe Giancarlo da partire da questo perché credo che sia l'aspetto più grave e importante, ma ci arriviamo tra un istante, prima ti chiedo insomma gli scenari dove ci stanno portando, quali scenari, per meglio dire, intravedi nel contesto attuale? Sì, dobbiamo tenere presente Emanuela che in Italia tra tre settimane si vota, è un appuntamento importantissimo, quindi oltre a tutte le problematiche che senz'altro abbiamo come tutti gli altri paesi, forse noi ancora di più e poi abbiamo appunto questo appuntamento politico importantissimo, ora, le previsioni sono tutte in un'unica direzione, cioè per una vittoria netta da parte del centro-destra, ma indipendentemente dal fatto di chi vincerà, senz'altro si ritrova a dover gestire una situazione estremamente complicata, però detto questo, le elezioni sono una cosa importante e diciamo che dal punto di vista politico, secondo me le elezioni hanno stabilito insomma, almeno questa tornata elettorale, una cosa importante, cioè che senza l'aiuto non so comunque del Movimento 5 Stelle, cioè se il Movimento 5 Stelle si smarca il centro-sinistra diciamo è perdente, quindi questo aspetto è fondamentale, poi dopo le elezioni cosa accadrà non si sa, però è chiaro che si va alle elezioni, il centro-destra sembra abbastanza unito, il centro-sinistra no, nel senso che sì, i partiti che sappiamo, però di fatto il centro-sinistra è rimasto solo ed esclusivamente il Partito Democratico, quindi questo porterà a delle elezioni che potrebbero avere un esito molto originale per l'Italia, cioè non con una divisione a 50 ma con una divisione tipo 65-66 a 35, questo porterebbe a un Parlamento molto spostato sul centro-destra, quindi questo è un aspetto italiano molto importante da tenere in considerazione, poi c'è l'aspetto economico che chiaramente è preponderante. Giancarlo, ma sono io che non ho ancora capito non tanto che cosa propongono i vari partiti, perché per quello basta, insomma lo possiamo fare tutti, andare a scaricare i programmi, insomma comunque informarsi, quello che non ho capito è dove si prenderanno questi soldi, perché allora io ho detto banalmente si continua a discutere intorno allo scostamento di bilancio, chi dice che potrebbe essere in questo caso accettabile proprio perché, appunto poi ne parleremo, bisogna aiutare le famiglie e le imprese in un momento difficile, chi invece sostiene che siamo talmente indebitati che andare verso uno scostamento di bilancio, cosa che per esempio ha evitato sempre di fare draghi, sarebbe un errore però appunto, quindi dove prendiamo questi soldi? Perché le misure, facciamo così, di tutti i partiti sono importanti, sono gravose proprio per le casse dello Stato e dove li prendiamo questi soldi? Non l'ho capito io o non si è ancora capito in generale? No, ma questa domanda non vale solo oggi, vale da… No, lo so, però siccome dobbiamo scegliere chi votare, bisogna andare a votare, quindi ancora di più vale sempre, ma oggi ce lo chiediamo ancora in modo più vigoroso, ma lo so che lo sai anche tu insomma. Certo, no, assolutamente è così, perché man mano ci troviamo sempre un debito pubblico maggiore, e quindi se andiamo sempre a gravare lì, è chiaro che prima o poi, insomma, io lo dico sempre, il debito pubblico è un debito, non è una cosa da ridere, e questo quindi se continuiamo ad aumentarlo, qua noi siamo arrivati in un momento in cui se non ci fossero state le elezioni, quindi se le elezioni fossero state a, diciamo, la data prevista, cioè quella di marzo del prossimo anno, è chiaro che Draghi avrebbe dovuto fare qualcosa, perché non si possono aspettare sei mesi e poi dopo le elezioni fare il governo, eccetera, così la situazione è stata talmente grave che richiedeva un intervento immediato da parte del governo. Con la questione che Draghi, sì, è ancora Presidente del Consiglio, ma solo per gli affari ordinari, è chiaro che uno scostamento di bilancio viene considerato un affare straordinario, e quindi capisco che non voglia fare uno scostamento di bilancio. D'altronde andare a prendere 30 miliardi, perché di questa più o meno è la cifra, poi capiremo anche il perché, ma questa più o meno è la cifra che serve, è andare a prendere 30 miliardi, non sono noccioline 30 miliardi, anche se dovessimo andare a ipertassare Eni, eccetera, io poi anche su questa cosa delle tasse, degli extra profiti vorrei dire qualcosa, perché comunque anche dovessimo andare, chiaramente… Sì, ma non ha funzionato comunque anche quella cosa lì, insomma, per ora diciamo che è stata fallimentare, l'extragettito… Per ora fallimentare, ma nella migliore delle ipotesi arriverebbe qualche miliardo, non c'erano 30 miliardi, quindi i 30 miliardi che servono e che vengono chiesti a Draghi come scostamento di bilancio non arriveranno. Ovviamente il governo nuovo si troverà immediatamente a dover chiedere uno scostamento di bilancio all'Europa e non è assolutamente detto che l'Europa glielo conceda… Conceda, certo, assolutamente, perché bisogna avere l'autorizzazione, non è che si può fare come si vuole, no? Certo, quindi insomma la situazione, l'utilizzo del PNRR su questo non sarebbe previsto, cioè anche lì la questione del PNRR sono soldi che hanno un indirizzo ben preciso, cioè sono erogati in base appunto a degli accordi ben precisi, quindi non è che sono regali per cui uno li può utilizzare come ne ha voglia quei soldi lì, quindi insomma ci sono tutta una serie di questioni che rende la situazione in generale nel mondo difficile, in Italia ancora di più. Certo, allora Giancarlo, andando più mirati, secondo titolo l'abbiamo visto poco fa, cosa succede se la Russia taglia il gas? Questa è la questione principale, la paura maggiore, visto che già oggi senza il taglio definitivo siamo in queste condizioni, cosa potrebbe succedere? Allora, dunque, qua è abbastanza semplice la cosa, nel senso che ci riferiamo a chi si è mosso prima di noi, cioè la Germania, un paio di giorni fa il primo ministro Scholz ha annunciato un piano di 65 miliardi, per quello dicevo che i 30 miliardi ipotizzati per l'Italia poteva essere un importo diciamo abbastanza corretto, perché come sappiamo il PIL della Germania è il doppio di quello dell'Italia, quindi insomma facciamo la metà di quanto serve ai tedeschi, se i tedeschi servono 65 miliardi all'Italia ne serviranno 30, quindi questi sono più o meno le 5. 65 miliardi per la Germania sono tantissimi, però teniamo conto che la Germania, beati loro, hanno un debito pubblico enormemente inferiore al nostro, naturalmente rispetto al PIL, logicamente, perché sappiamo che hanno un debito come ammontare diciamo circa pari al nostro, però dato che hanno il PIL il doppio del nostro, si fa sempre rispetto al PIL insomma il calcolo, quindi la Germania se lo può permettere, si può permettere questi 65 miliardi, detto questo però io cito un mio ascoltatore del canale Finanza in chiaro, io ho parlato appunto di queste problematiche, lui mi scrive dalla Germania dove dicendo di lavorare in una fonderia e che con le previsioni appunto di stop del gas dalla Russia, loro hanno la previsione di chiudere a, sono una fonderia che producono parti di automobili e appunto dovrebbero chiudere prima della fine di ottobre, insomma è una notizia che va presa con dovuta attenzione, insomma se la Germania va in crisi immaginatevi l'Italia. Ecco appunto, l'altro titolo che poi si aggancia a questo, guerra del gas, quali gli scenari principali al momento insomma poi, dobbiamo vedere anche quali altre risoluzioni verranno portate però per l'Europa e per l'Italia, ecco sono due mondi ovviamente paralleli e che si intersecano nello stesso momento insomma. Guarda qua, Manuela, mi riallaccio a quanto ha detto prima Andrea, che ha detto una cosa giustissima, cioè dice noi abbiamo fatto delle sanzioni senza avere un piano B e dà perfettamente ragione, l'unica cosa era che il piano B non c'era perché probabilmente non esiste, cioè purtroppo noi abbiamo, l'Italia si dice per il 40%, la Germania addirittura per il 55% dipendevamo dal gas russo, se non arriva il gas russo fai tutti i risparmi che vuoi, fai tutte le cose che vuoi ma non puoi fare a meno di una cosa che pesava per il 40% in Italia e per il 55% in Germania, cioè non c'era un piano B, non è che va bene allora abbiamo lì delle centrali che inutilizzate le rimettiamo in sesto e quindi possiamo fare a meno del gas russo, non c'era. Ovviamente anche i russi se non vendono il gas a noi hanno un problema perché devono trovare altri sbocchi per vendere il loro gas, perché sappiamo che una gran parte del loro bill è proprio determinata dalla vendita dei loro prodotti energetici, di gas e petrolio oltre che di tante altre materie prime, quindi è chiaro che anche ai russi le sanzioni peseranno, però anche qua le sanzioni, Manu fammi dire questo, io quando ho letto, ovviamente perché si legge sui libri di storia, che il momento nel quale il fascismo ha avuto la massima adesione popolare, è stato nel momento nel quale la Gran Bretagna e gli altri stati hanno messo delle sanzioni contro l'Italia, che poi si è arrivati all'oro alla patria con persone che a loro volta erano antifascisti, non dico che siano diventati fascisti, però in quel momento hanno dato anche loro l'oro alla patria, proprio perché questo va tenuto conto, quando facciamo delle sanzioni il popolo che riceve la sanzione si compatta, già i russi vedono il loro Stato come la madre, la famosa madre russa, cosa che per esempio noi assolutamente non pensiamo alla madre Italia, nessuno ha questo patriottismo. Non siamo nazionalisti, esatto, siamo rispetto ad altri paesi, anzi quando parliamo di nazionalismo si pensa sempre a qualcosa di brutto, che voglio dire, perché poi con questo non significa che non dobbiamo guardare altrove per evolverci, ma insomma, però noi siamo noi, un po' come io sono io, poi io posso andare d'accordo con Giancarlo Marcotti, posso andare d'accordo con un'altra persona, ma io rimango io, giusto? Certo, certo, però per dire che come popolo siamo diventati nazionalisti nel momento nel quale ci hanno dato delle sanzioni che se vogliamo, visti con gli occhi di oggi, storici, voglio dire, era giusto dare delle sanzioni a quel governo che avevamo, eppure in quel momento quel governo è diventato più popolare, proprio perché c'è questa reazione popolare al fatto di credere di aver subito un torto dagli altri, quindi dovevamo mettere in conto che dando delle sanzioni alla Russia, compattavamo il popolo russo e noi non avevamo il piano B sul fatto delle ponti etiche, e quindi io adesso veramente sono preoccupato per quest'inverno. Assolutamente, anche perché poi io le sto leggendo un po' di dichiarazioni che mi ero stampata, stop dipendenza, diversificazione nucleare, basta partito del no, e va bene, però se non ci decidiamo possiamo discuterne ancora a lungo, oppure ancora ridurre burocrazia, bene investimenti esteri se non rubano il nostro saper fare, ma tra un po' non ci sarà più niente, adesso sto esagerando, però comunque questo allarme, così ci ricolleghiamo all'ultimo titolo, Giancarlo aggiungiamo, però ripartiamo pure da dove stavi dicendo tu, l'allarme delle confindustria, insomma rischio un sacco di imprese per questi extra costi, è vero anche la burocrazia fa poi, perché poi insomma se non riduciamo quei costi partiamo già da un livello altissimo, però scusate la sincerità, mi sembra solo chiacchiere nel momento in cui restano così e non ci sanno dire, per sanno dire, intendo dire tutti i nostri amministratori come fare a ridurre questa maledetta burocrazia, perché nessuno riesce a farla, allora o lo facciamo o ci dite non si può fare e vabbè saremo un paese altamente burocratico, però non ci sono altre soluzioni, Giancarlo? D'altronde non la possiamo neanche, è da combattere la burocrazia, io sai che la mia lotta contro la burocrazia è nota insomma, però so anche, sono anche una persona pragmatica, so anche che se la combattiamo la burocrazia è una battaglia che vinceremo tra una generazione, tra 25 e 30 anni, non la vinceremo tra 6 mesi, quindi purtroppo dobbiamo anche fare i conti con questo fatto, cioè obiettivamente abbiamo queste difficoltà e sono difficoltà oggettive. Ecco, che fine faranno le nostre imprese? Poi insomma fammi però leggere questo messaggio perché insomma, attenzione a quello che si dice, perché dice che i discorsi che stiamo facendo in generale ricordano quelli che faceva Hitler sul nazionalismo? No, allora c'è la Francia, allora perché dobbiamo sempre prendere gli estremi, Hitler lo conosciamo tutti, è inutile che ne parliamo, non ne voglio neanche parlare sinceramente, se non per ricordare i disastri che ha fatto e i massacri che ha fatto, ma non è il momento giusto per farlo. C'è la Francia che è fortemente nazionalista, in Francia esiste a parte il presidenzialismo, ma loro guardano i loro interessi, con questo non significa che se ne fregano degli interessi degli altri, noi siamo soliti prendere o il nero o il bianco. Dice, no non era quello il mio punto, beh allora hai scritto male, mi spiace, nel senso che io rispondo perché è forte quello che hai scritto, soprattutto quando si tira in ballo un personaggio come Hitler. Il problema dell'Italia è che non c'è reazione ma solo vittimismo, questo può essere vero, entro certi limiti in questo momento ci sono veramente tante sofferenze e ci sono persone che vorrebbero e hanno continuato a rimboccarsi le maniche, ma quando poi non ci sono più le risorse, perché non c'è davvero la possibilità di fare le cose, come si fa? Cioè io posso essere armata di buona volontà, posso piuttosto lavorare di notte, ma a un certo punto la benzina finisce nel vero senso della parola se non arrivano altre risorse. Poi c'è chi continua a farla vittima e l'ha sempre fatto e quella purtroppo è questione di percentuali, non è che tutti possono essere vigorosi, però insomma anche ridurre in questo modo secondo me non è rispettoso per la situazione che molti in questo momento stanno vivendo, però veramente Hitler lasciamolo dov'è, che erano altri tempi e si spera che non tornino più quei periodi. Giancarlo? Niente, una delle… Perdonami ma ci tenevo a precisare perché insomma, se no si può dire sempre tutto, invece non è così. No, 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 hai perfettamente ragione, hai fatto bene a puntualizzare, tra l'altro condivido naturalmente. No, ma volevo ulteriormente dire anche un'altra cosa perché effettivamente è importante, non pensiamo che con la questione dei risparmi possiamo ottenere molto, lo so mi dispiace dirlo, nel senso vorrei dire basta risparmiare un po' e le cose si mettono a posto, non è così, tanto perché i risparmi li abbiamo già fatti, cioè voglio dire nessuno di noi è talmente stupido da, anche in passato da, non so, accendere le luci o tenere il condizionatore a livelli, perché poi dopo anche in passato arrivavano delle bollette salate, quindi… quella questione dei 19 gradi eccetera, guardate che la maggior parte degli italiani non aveva in casa 25 gradi, aveva in casa 18-19 gradi e nelle stanze che non utilizzavano si spegneva tutto, perché nessuno buttava via i soldi precedentemente, quindi qua è la questione fondamentale che qua si prevede, poi io mi auguro che invece gli aumenti siano, sì ci siano degli aumenti ma sopportabili, il problema è che invece si prevede che questi aumenti diventino insopportabili. Appunto, è quello che dicevo prima io, certo, certo. E insopportabili soprattutto per l'industria, attenzione, cioè noi dobbiamo anche pensare in quello che uno può essere di destra, di sinistra, ma insomma è stupido pensarla come uno contro gli altri, cioè qua dobbiamo capire che l'industria paga gli stipendi se quell'azienda lì fa utili ed è in grado quindi di fare quello, altrimenti chiude e se chiude, certo, l'imprenditore non sarà in buone acque ma non stanno meglio i suoi dipendenti. Certo, va bene, c'è l'amico che dissente anche sull'espressione risparmiare non basta, non vedo perché non sia così cioè se io risparmio posso comprare la pasta per mangiare ma certo non per investire, adesso detto proprio così noi stiamo parlando del sistema paese, il risparmio nei momenti difficili serve per farci un tesoretto per poter far fronte alle nostre emergenze, per nostre intendo dire come individui o come imprese ma per andare oltre serve altro che risparmio, certo se poi si ha la fortuna di poter risparmiare molto oppure di avere già un risparmio importante si può attingere a quel risparmio ma insomma il risparmio non basta più quando ci sono altre emergenze. Va bene, comunque insomma ciascuno giustamente la vede anche nel modo in cui crede e mi fa piacere anche condividere le riflessioni. Giancarlo, sì dimmi, chiudi che così ti saluto. Sì sì no, chiudo, ci sono delle aziende, noi non ne teniamo conto, per esempio noi abbiamo e poi tu Manu lo sai perfettamente visto da dove sei nato eccetera, noi abbiamo delle filiere diciamo importantissime, per esempio per quanto riguarda il mobile, ma il mobile vuol dire legno e legno vuol dire lavorare eccetera così con e utilizzare energia, cioè ci sono tantissime cose per cui noi non teniamo conto, fare la carta ci vuole tanta energia, ci sono tantissime cose del quale non teniamo conto, quindi l'energia serve soprattutto alle imprese e veramente avranno difficoltà enormi a pagarla due, tre, quattro volte quanto la pagavano nel 2000. Assolutamente, assolutamente. Va bene Giancarlo, ne parleremo ancora, sarà un discorso che ci porteremo a presto un bel po' e sperando di aggiungere anche dei tasselli positivi. Grazie Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro e a presto su Le Fonti TV la settimana prossima. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti. Grazie.